Alessandra, ci siamo? Un'altra volta. Sì, un'altra volta. Che sapore ha questa? Il sapore è sempre bello, essere all'Olimpiade è sempre una cosa fantastica, un momento particolare, un'impresa nella vita. Barcellona, Savanna, Sydney, Atene, Cindao? Sì, sono passati tanti anni, anche se sinceramente non mi sembra che siano passati così tanti. Sei completamente pronta? Nessun rimpianto? Sei incontentabile? Se ci dici che sei serena, siamo sereni tutti? Ma sai, guardando, ti guardi soprattutto in questi giorni, quando appunto stai per iniziare, spesso la tua mente si va indietro, i cerchi, no? Dici, ma magari potevo fare questo, potevo fare quell'altro. Io però credo di aver fatto, insomma, in questo quadriennio tutto quello che potevo fare, nel senso che comunque ogni volta che trovi un ostacolo, una difficoltà, o no? Comunque devi prendere una decisione e in quel momento io so di aver preso la decisione che mi sembrava più giusta. Per cui oggi sono qua, sicuramente ci sono state in questo quadriennio tante difficoltà che io ho dovuto superare, però già il fatto di esserci arrivata è un traguardo molto bello, ma insomma, sono qua sicuramente per lottare e per voler dire la mia. Pochi mesi fa al Mondiale, nella giornata di vento forte, le hai stese a tutti i primi. Ti aspetti il vento forte? È quello che desideri? Ma no, non saprei. Mi aspetto un'Olimpiade con tutti i venti. Questo è un campo che ti può veramente far regatare sia con vento forte, medio, leggero, per cui un'Olimpiade completa. Polacca e israeliana, sono loro due le avversari più importanti? Sì, sono sicuramente loro due, ma ci sono anche la spagnola e l'inglese, che sono molto, molto forti, che possono anche loro puntare alla vittoria. Ci sono altre invece, tipo l'Ucraina, la francese, la tedesca, che possono buttare una medaglia al podio. Nei fatti cinque, di notte prima dell'Olimpiadi, stanotte dormi? Spero di sì. Alle altre quattro? Ma sì, ho dormito. Normalmente all'inizio dormi, alla terza o alla fine che cominci ad entrare in apnea. E allora, buon divertimento in bocca al lupo e ci vediamo ovviamente dopo la regata. Grazie Alessandra.